Ciao a tutti e benvenuti al video di oggi con l'astrologo Branco. Siamo lieti di darvi il benvenuto al vostro oroscopo del giorno. Branco, con la sua saggezza e intuizione, ci guiderà attraverso le influenze astrali che ci accompagneranno nella giornata odierna. Che siate amanti dell'astrologia da lungo tempo o semplicemente curiosi delle influenze cosmiche, questo video vi darà l'opportunità di abbracciare il mistero e l'intrigo dell'universo. Quindi, senza ulteriori indugi, lasciate che l'ispirazione astrologica di Branco vi guidi in questa affascinante avventura. Ciao Ariete. Oggi avrai bisogno di qualcosa che hai ritirato dalla circolazione molto tempo fa e che ora non riesci a trovare. Questo episodio ti farà pensare al futuro. La stabilità emotiva ora sta vacillando nella tua vita. I momenti difficili possono rapidamente peggiorare se non affronti coraggiosamente il problema. È atteso un colpo di fortuna in grado di risolvere alcuni dei principali problemi economici che vi stanno affliggendo negli ultimi giorni. Amore, in questa giornata, il tuo carisma sarà alle stelle grazie all'energia di Venere. Sfrutta questo momento per esprimere i tuoi sentimenti a una persona speciale. Se sei in una relazione, potresti scoprire nuovi lati affascinanti del tuo partner. Lavoro, sul fronte professionale, il focus sarà sulla comunicazione. Attira l'attenzione dei tuoi colleghi con idee innovative e presentazioni incisive. Lascia che il tuo spirito creativo guidi il tuo cammino oggi. Salute, ricordati di trovare il tempo per un po' di attività fisica. Anche una breve passeggiata può fare meraviglie per il tuo benessere generale. Ciao Toro La fermezza con cui i tuoi genitori ti trattano non sempre ti sta bene, ma non ti ferisce affatto. Nessuno dice che i genitori debbano essere i migliori amici. La comunicazione con una persona che ami potrebbe essere interrotta oggi a causa di un malinteso che nasce dall'intervento di terzi. Non dubitare delle tue decisioni passate, anche se in questi giorni possono apparire segni di errori. Continua a scommettere sui tuoi progetti principali. Amore, la luna influenzerà positivamente la tua sfera emotiva oggi. Se sei single, potresti sentirti attratto da una persona misteriosa. Se sei già in una relazione, dedicare del tempo di qualità al tuo partner rafforzerà il legame. Lavoro, è un ottimo momento per concentrarti sulle finanze e le questioni pratiche. Potresti ricevere una proposta finanziaria interessante o avere intuizioni su come aumentare la tua stabilità economica. Salute, assicurati di ottenere un sonno adeguato. Un riposo sufficiente influisce positivamente sulla tua energia e concentrazione durante il giorno. Ciao gemelli. Giornata favorevole per recuperare posizioni perse. Sentiti libero di lavorare un po' più del solito per consolidare il terreno duramente conquistato. È molto probabile che oggi nella tua vita appaia una persona che può cambiare il tuo futuro. Ha una forte personalità e ti farà sentire importante al suo fianco. Oggi potrebbe non essere una buona giornata per la tua salute. Il tuo sistema nervoso ti giocherà uno scherzo a causa della grande pressione a cui ti sottoponi. Amore, Mercurio, il tuo pianeta guida, favorirà le conversazioni stimolanti oggi. Questo è il momento perfetto per condividere i tuoi pensieri più profondi con il tuo partner. La comprensione reciproca sarà alta. Lavoro, la tua mente curiosa e versatile sarà un vantaggio sul lavoro. Esplora nuove soluzioni per le sfide attuali e non temere di prendere iniziative audaci. Salute, cerca di bilanciare il tuo desiderio di movimento con momenti di relax. Trovare l'equilibrio tra attività fisica e riposo migliorerà il tuo benessere complessivo. Ciao Cancro Oggi sarà molto difficile per te mantenere i tuoi criteri professionali, perché la maggior parte delle persone intorno a te avrà opinioni diverse dalle tue. Non cercare di risolvere i problemi di relazione attraverso gli impulsi, è meglio che tu mantenga una posizione stabile e permanente, senza troppi alti e bassi. Cerca di fare di oggi un giorno di riposo, o almeno di stare lontano dalle fonti di stress che ti affliggono. Non puoi permetterti altre punizioni fisiche. Amore, le stelle indicano un giorno di romanticismo e affetto. Mostra al tuo partner quanto ti tiene a cuore. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che cattura la tua attenzione in modo inaspettato. Lavoro Sarai particolarmente intuitivo sul lavoro. Ascolta la tua voce interiore quando si tratta di decisioni importanti. La tua creatività fiorirà, portando soluzioni innovative. Salute Un approccio rilassato alle sfide quotidiane avrà un impatto positivo sulla tua salute mentale. Trova il tempo per praticare la meditazione o lo yoga. Ciao leone Sei più carico di energia che mai. Cerca di incanalarlo verso cose positive e costruttive, sia sul lavoro che nel migliorare le tue conoscenze. Cerca di uscire il prima possibile dalla situazione malinconica in cui ti sei ambientato negli ultimi tempi. Cerca divertimento, i tuoi amici te lo daranno volentieri. Il super lavoro ti causerà grossi problemi di salute oggi. Devi trovare il modo migliore per la tua vita lavorativa per smettere di rubare tempo dal tuo spazio privato. Amore Il sole, il tuo pianeta reggente, brilla sulla tua sfera amorosa. Esprimi i tuoi sentimenti in modo diretto e sincero. Se hai delle questioni da risolvere con il tuo partner, oggi è un buon giorno per farlo. Lavoro L'energia solare ti dà la spinta per metterti in luce sul lavoro. Mostra il tuo talento e la tua leadership in progetti importanti. Sarai notato e apprezzato dai tuoi superiori. Salute Dedica del tempo a te stesso oggi. Un po' di autocura farà meraviglie per il tuo benessere. Potresti provare una nuova attività che ti appassiona. Ciao Vergine La tua agilità mentale ti libererà oggi da una trappola che qualcuno cercherà di tenderti in ambito professionale. Potresti trovarti coinvolto in affari piuttosto loschi. Trova il modo giusto per dire al tuo partner le cose che ti infastidiscono di lei, la comunicazione è essenziale per mantenere l'armonia. Le sorprese segneranno la giornata, che non sarà affatto quella che avevi programmato. Tuttavia, le novità sono opportunità per te. Non esitare Amore, la tua attenzione ai dettagli si rifletterà nelle tue relazioni oggi. Ascolta attentamente ciò che il tuo partner dice e rispondi con gentilezza. Se sei single, potresti attrarre qualcuno con la tua intelligenza affascinante. Lavoro Concentrati sulla collaborazione e la diplomazia sul lavoro. Le tue abilità di mediazione saranno richieste in situazioni complesse. Non temere di mettere in luce le tue competenze interpersonali. Salute Mantieni uno sguardo attento sulla tua alimentazione e l'apporto di nutrienti. Un'alimentazione equilibrata avrà un impatto positivo sulla tua energia. Ciao bilancia Non fare più errori Sii più attento a quello che fai, perché stai finendo le scuse credibili e presto ti ritroverai solo di fronte alla tua mancanza di concentrazione. Le chiavi delle cose importanti ti sono più vicine di quanto pensi. Con un po' di attenzione li scoprirai e vedrai subito la via d'uscita. L'energia che emani contagia le persone intorno a te. Potete diventare un gruppo molto unito che vi darà molto successo. Amore Venere Il pianeta dell'amore, ti renderà particolarmente affascinante oggi. Se sei in una relazione, organizza una serata romantica per te e il tuo partner. Se sei single, potresti essere il centro dell'attenzione in una riunione sociale. Lavoro Concentrati sulla tua visione a lungo termine. Pianifica strategie che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi professionali. La perseveranza porterà risultati positivi. Salute Trova il giusto equilibrio tra lavoro e relax. La gestione dello stress è fondamentale per il tuo benessere complessivo. Ciao Scorpione Questo è un buon momento per fare un viaggio non troppo lungo, per visitare zone che non conosci. Scegli bene la tua compagnia, perché il divertimento può condizionarti. Oggi avrai l'opportunità di parlare molto profondamente con il tuo partner approfittane per sollevare qualsiasi dubbio tu abbia sulla tua relazione. L'aiuto di cui avevi bisogno finalmente arriverà oggi, e lo farà quando meno te lo aspetti. Le cose prenderanno una svolta e cambieranno in meglio in brevissimo tempo. Amore Potresti sentirsi un po' più riservato oggi, ma non temere di mostrare le tue emozioni al tuo partner. La sincerità porterà un legame più profondo. Se sei single, mantieni aperta la mente verso nuove connessioni. Lavoro L'energia dei pianeti ti invita a esplorare nuove idee sul lavoro. Non aver paura di presentare concetti audaci o di proporre cambiamenti innovativi. Salute Concentrati sulla tua salute mentale La pratica della gratitudine e del pensiero positivo avrà effetti benefici sulla tua mente. Ciao Sagittario Il tuo ambiente di lavoro è un po' caotico, riflesso del momento che stai attraversando. Investi un po' di tempo nel riordinare o perderai qualche documento importante. Un evento inaspettato e violento ti fa iniziare oggi a chiederti cose che fino ad ora ti erano sacre. Stai iniziando a cambiare. La vita adesso ti offre alcune delle opportunità di cui hai bisogno. Non sprecarle per la paura che hai delle cose che non conosci. Pensa di poter migliorare molto. Amore Oggi potresti sentirti avventuroso in amore. Se sei in una relazione, pianifica qualcosa di speciale con il tuo partner, come una gita o un'attività insolita. Se sei single, potresti fare incontri interessanti in luoghi inusuali. Lavoro L'ottimismo e la fiducia nel futuro ti guideranno sul lavoro. Affronta le sfide con determinazione e creatività. Il tuo spirito positivo influenzerà anche i tuoi colleghi. Salute Cerca di mantenere un equilibrio tra movimento e relax. Una camminata all'aria aperta o una sessione di yoga ti aiuteranno a mantenere la calma. Ciao Capricorno Le soddisfazioni che ti dà la famiglia non sono paragonabili a niente, non vale la pena lavorare troppo, dedica il tempo ai tuoi, ti ringrazieranno. Scoprirai oggi che l'atteggiamento di uno dei tuoi amici non è quello che ti aspettavi, devi reagire rapidamente e cercare di non rompere l'amicizia. Le questioni di cuore ti tengono basso il morale. È tempo di cambiare marcia e dimenticare il passato, il futuro può essere molto migliore. Amore La luna ti ispira a mostrare il tuo lato sensibile oggi. Esprimi i tuoi sentimenti al tuo partner in modo onesto e aperto. La vulnerabilità rafforza i legami. Lavoro Concentrati sulla pianificazione e l'organizzazione. Affronta le tue responsabilità con metodo e attenzione ai dettagli. Il tuo impegno verrà notato. Salute, prenditi cura del tuo benessere emotivo. Dedica del tempo alle attività che ti rilassano e ti portano gioia. Ciao Acquario Devi mantenere un atteggiamento cauto riguardo alla tua situazione finanziaria, potrebbe sorgere una spesa importante che fino ad ora non ti aspettavi. Oggi il tuo mondo intellettuale trova nuove sfide che arricchiscono notevolmente la tua esistenza. Momenti molto interessanti ti aspettano nel prossimo futuro. Il tuo obiettivo principale ora è recuperare le energie perdute. Il contatto con l'aria fresca e la natura sarà il miglior aiuto che puoi trovare in questo momento. Amore, la comunicazione sarà la chiave oggi. Condividi le tue idee e ascolta attentamente ciò che il tuo partner ha da dire. La comprensione reciproca approfondirà la connessione. Lavoro, la tua creatività sarà in primo piano sul lavoro. Esplora nuove soluzioni per le sfide e porta avanti progetti che ti appassionano. Il tuo spirito innovativo ti distinguerà. Salute, cerca di incorporare cibi nutrienti nella tua dieta. Una buona alimentazione avrà un impatto positivo sulla tua energia. Ciao pesci Se oggi devi prendere una decisione professionale, scegli cautela e non rischiare. È più quello che hai da perdere che quello che puoi guadagnare. Tutto ciò che ha a che fare con il mondo della comunicazione ha ottime aspettative per te. Lo scopo della pubblicità sarà abbastanza favorevole. Non credere alla metà delle cose che arrivano alle tue orecchie con il passaparola. Ciò che altri presentano come grandi problemi potrebbero essere problemi di secondo ordine. Amore, l'intuizione guiderà le tue decisioni amorose oggi. Ascolta il tuo istinto quando si tratta di relazioni. Se sei single, potresti sentirsi attratto da qualcuno che ha una profonda connessione con te. Lavoro, concentrati sulla tua crescita personale e professionale. Considera nuove opportunità di formazione o di sviluppo delle tue abilità. La tua dedizione ti porterà lontano. Salute, prenditi cura della tua salute emotiva. Pratiche come la meditazione o il journaling ti aiuteranno a trovare serenità. Le stelle indicano che potresti essere sulla soglia di un nuovo inizio emozionante. È il momento di abbracciare il cambiamento e di affrontare le sfide con fiducia. In conclusione, questo giorno ti invita a abbracciare le sfide e le opportunità che si presentano lungo il tuo percorso. Non dimenticare che sei tu il capitano della tua nave e le stelle sono semplicemente guide. Mantieni la fede in te stesso, affronta ogni situazione con coraggio e sfrutta al massimo le tue risorse interiori. Che questo giorno ti porti un passo più vicino a un futuro radioso e prospero. In bocca al lupo e buona giornata!